Ben trovati spettatori e spettatrici, buongiorno, nuovo appuntamento con i giornali in edicola. La nostra rassegna stampa, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ribadisce il no all'intervento diretto in Ucraina, ma allo stesso tempo assicura che con la Russia non si tratta. E poi la cronaca italiana con l'omicidio del musicista Giorgio Anapoli, condannato a 20 anni di carcere, il 17enne imputato nel processo. Sono alcune delle notizie che troviamo sulle prime pagine dei giornali e chiaramente all'interno dei giornali. Oggi, mercoledì 20 marzo, come di consueto, cominciamo la nostra rassegna stampa dalla lettura della prima pagina del Corriere della Sera a centropagina, il titolo principale. Meloni, Russia, voto farsa. La guerra in Ucraina nell'intervento in Senato con Putin non si tratta. Assente il leader leghista alla Premier, dopo Salvini. Ma niente, escalation. Premierato scontro con Schlein, leggiamo. Le elezioni in Russia che hanno visto il trionfo di Vladimir Putin sono state una farsa, lo dice davanti al Senato la Premier, Giorgia Meloni, che ribadisce con lo zar non si tratta. Però ricorda anche di evitare il rischio di una escalation militare. Assente in aula il leader della Lega, Matteo Salvini. Scontro sul premierato tra Meloni e Schlein. E poi a centropagina, 20 anni al killer di Giorgio, le minacce del padre in aula. E appunto in foto vediamo la madre della vittima che dichiara ora giustizia è fatta. Omicidio volontario e senza alcuna ragione è condannato a 20 anni il minorenne che ha ucciso Giovan Battista Cutolo. Giorgio, le minacce del padre in aula appunto. E poi la lite tra ex toghe e quei rischi per l'antimafia. Stiamo parlando del caso Laudati Caffiero e a raccontarlo, a raccontare una nuova pagina di questa vicenda è Giovanni Bianconi. Dieci parole per far pensare a uno scontro fra toghe, anzi ex toghe, visto che uno se l'è tolta due anni fa e l'altro lo farà il mese prossimo entrambi per raggiunti limiti di età, per disegnare uno scaricabarile fra ex colleghi. Andiamo nel taglio alto. Stiamo parlando del sondaggio Ipsos per Euronews, lo scenario di una nuova maggioranza. Ursula a raccontare questa pagina è Renato Benedetto. Per la prima volta la destra potrebbe conquistare più di un quinto dei seggi nel nuovo Parlamento europeo, ma senza ottenere la maggioranza. E quanto emerge dal sondaggio Ipsos per Euronews, il blu del Partito Popolare resta il colore dominante. 12 paesi su 27. I socialisti sono primi solo al nord. della coalizione Ursula avrebbe 398 seggi su 720, ossia il 55,3% in Italia. Le intenzioni di voto danno Fratelli d'Italia al 27%, PD al 19%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 17,4%. E poi lo sport, il calcio, regole, disciplina e meno giochi. La battaglia del prof Spalletti, ossia il commissario tecnico degli Azzurri della Nazionale Italiana, per me i calciatori sono creature speciali, ma da loro voglio risposte speciali. Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, spiega le regole per far parte del gruppo degli Azzurri, scrive Paolo Tomaselli. Non vuole atteggiamenti eccessivi ed esasperazione del look, ma pretende totale sacrificio, pensando a chi i sacrifici li ha fatti davvero. Una sfida umana che va di pari passo con quella tecnica. Infine, il caso, la scuola chiusa per il Ramadan, scelta pratica a Milano. Gli insulti al preside, solo una scelta pratica, questa è l'Italia del futuro. Così rispondono a Pioltello, nel milanese, alla polemica sul giorno di vacanza da scuola per il Ramadan, dove gli alunni stranieri sono il 43% minacce e insulti al preside, scrive Gianni Santucci. Passiamo alla Repubblica, il giornale fondato da Eugenio Scalfari. Il titolo principale è dedicato alla sfida del recovery, PNRR sotto accusa. La Corte dei Conti piccona il decreto del governo, riduce le risorse sulla sanità, accorda troppi poteri a Palazzo Chigi e ospedali. L'esecutivo taglia oltre un miliardo regioni in rivolta contro Fitto e Schillaci. Protesta anche occhiuto di Forza Italia. Attacco hacker a Meloni, violato il profilo social e allarme. La Corte dei Conti stronca il PNRR del governo Meloni, tagli alla sanità e dubbi sulle coperture. In una memoria depositata in Parlamento, la magistratura contabile lancia l'allarme sulle ispezioni e i controlli a campione che l'esecutivo potrà condurre hacker. Poi contro la Premier a rischio la sicurezza. Ma si parla anche di fisco. A farlo è Carlo Cottarelli. Evitiamo i regali agli evasori. Da giorni assisto o partecipo a trasmissioni televisive in cui esponenti del governo, precisa Cottarelli, da ultima a Meloni, ieri ad Agora, vantano il record nel recupero dell'evasione fiscale registrato dall'Agenzia delle Entrate nel 2023, ossia 24,7 miliardi. Altri esponenti dei partiti di maggioranza hanno parlato del successo nel ridurre l'evasione conseguito dal governo. E poi, dalle cliniche ai media, l'impero Angelucci, adesso punta all'Agi il deputato leghista. A centropagina, requiem sui diritti, 1041 bare a Roma, nell'indifferenza il lavoro uccide. In foto vediamo le bare appunto in Piazza del Popolo, tante quante sono state le vittime sul lavoro in Italia nel 2023. A raccontarci questa pagina è Stefano Massini, questo è un requiem per tutti coloro che vedete rappresentati in questa spianata di bare, per tutti i morti sul lavoro, per tutti quelli che dimentichiamo scrive, scrive. E la parola requiem è formata da sette lettere, R come rimozione. Rimuoviamo sempre quello che non vogliamo ascoltare, quello che ci dà noia, quello che è troppo fastidioso far risuonare e allora il silenzio è ipocrisia, non c'è soltanto il silenzio dei morti, il silenzio è anche quello di coloro che quei morti non vogliono. Parlare in spalla, nel taglio alto, il voto in Russia, Salvini diserta l'aula, la Premier lo corregge, Putin elezioni farsa, no attentennamenti. E poi il punto di Stefano Folli, la corsa in tondo del Matteo Furioso, infine Mosca delusi da Giorgia, non dagli italiani. Nel taglio basso si parla di Medio Oriente, Hamas capi e vice in fuga e noi civili lasciati qui a morire. E dagli Stati Uniti Gianni Riotta, il fake dei trampiani, su Madame Macron, Brigitte è un uomo. Infine il personaggio, addio a bene il vice direttore eterno ragazzo. A raccontare questa pagina è Massimo Giannini. Passiamo alla stampa, il giornale di Torino, Russia, sgarbo di Salvini Ambeloni. Questo il titolo principale, la Premier nei territori occupati, elezioni farsa, mai truppe a Kiev. Il leader leghista diserta il Senato. Il presidente Mattarella torna a invocare la pace, ma servono criteri di giustizia e autentica equità. La sedia alla destra di Giorgia Menoni è vuota e tutti nell'aula del Senato guardano lì, al posto che sarebbe dovuto essere di Matteo Salvini. È accaduto appunto ieri. Il commento è di Flavia Perina. Il capitano sparisce, il nuovo papete lento. Anche sulla stampa si parla delle manovre economiche nel mondo del giornalismo. Angelucci vicino all'Aggi, la rivolta appunto dei giornalisti. Le interviste che la stampa propone oggi sono quelle a Renzi, a Schlein dico si vince solo al centro e poi lo russo. Idee dei 5 stelle difficili da capire. L'analisi è di Annalisa Kuzso-Crea. Il campo largo in agonia. La sinistra A, il piano B, si chiede. Ma chiaramente sulla stampa si parla anche di cronaca. Tocca agli ucraini trattare con lo Tsar a raccontarci questo aspetto. E Stefano Stefanini. E poi il dibattito sull'atomica. Putin sta bleffando. A centro pagina la foto con la notizia. Se l'università scarica Israele e Torino. No del Senato accademico. Ai progetti di cooperazione. Colpa della guerra a Gaza. In spalla poi il giallo 30 anni dopo. L'inchiesta su Ilaria Alpi. L'ambasciatore Cassini tentò di corrompere il testimone Somalo. Il professore Somalo Amir di dubbi ne ha pochi. L'agguato del 94 contro Ilaria Alpi e Milan Rovatin. A radici lontane dal corno d'Africa. Cercate in Italia ha dichiarato. E ancora in spalla l'anniversario. La lezione di Einaudi e il capitalismo di oggi. E poi l'inedito. Ecco che cosa separa noi liberali dagli altri. La stampa recupera oggi questa pagina proprio di Einaudi. Passiamo ad avvenire. Il giornale dei Vescovi italiani. Corpi sfruttati. La denuncia di Don Di Noto. La gamma dei delitti è sempre più efferata. Il porno da non normalizzare. Stiamo parlando del bilancio. Così lo definisce avvenire della vergogna dell'Oil. 236 miliardi di profitti da prostituzione e caporalato. La denuncia di Metter. Aumentano i casi di pedopornografia anche da parte di donne. Leggiamo. Il rapporto profitti e povertà. L'economia del lavoro forzato dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro mostra che le persone vittime del lavoro forzato nel mondo sono 23,7 milioni. 5 milioni in più rispetto alle rilevazioni del 2014. Da ognuno di loro lo sfruttatore ricava in media 10 mila dollari l'anno e lo sfruttamento sessuale è quello che rende di più soprattutto in Europa. E' allarme anche sull'abisso della pedopornografia online tra le vittime e anche i neonati, mentre è boom pedo mama, cioè donne che compiono abusi sessuali ai danni di minori. Don Fortunato di Noto dichiara preoccupati per le giovani disabili, per i neonati e per i filmati con la presenza di animali. Il fenomeno spiegato anche dagli investigatori in prima linea per salvare i bambini, spesso lasciati troppo soli e senza vigilanza. Poi l'intervista a Ulliano, leader di FIM, 35 ore, flessibilità e donne più tutelate nel nuovo contratto. Il sindacalista Bergamasco è il nuovo segretario generale del sindacato, dei metalmeccanici della Cisle e sostituisce Roberto Benaglia. Dovrà affrontare sfide complicate a partire dalla transizione all'auto elettrica, la carenza di mano d'opera e l'incognita degli effetti dell'intelligenza artificiale. Il settore è in trasformazione, il 58% degli addetti sono tecnici e impiegati. Il sorpasso sulle tute blu c'è già stato ed è una tendenza che si rafforzerà. Ancora, l'epidemia di dengue, Brasile in allarme, sono quasi 2 milioni casi di febbre da dengue registrati in Brasile. E dato più alto degli ultimi 24 anni, l'epidemia provocata da una zanzara sembra inarrestabile. E corre al ritmo di 20 mila contagi al giorno. La causa principale è il riscaldamento globale. Il paese è infatti tra quelli più sensibili agli effetti del clima e la settimana scorsa a Rio de Janeiro si sono toccati 62 gradi. Percepiti l'allarme si sta diffondendo anche in Europa e l'Italia ha rafforzato i controlli. Anche su Avvenire si parla poi di politica. Meloni no alle truppe a Kiev, messaggio sulle elezioni farsa. Per Mosca, 2 mila soldati francesi pronti a partire. Ma Parigi smentisce e si tratta anche della guerra in Medio Oriente. Gaza è alla fame, Netanyahu insiste, intervento a Rafa. Infine, nel taglio basso, i giudici liberano la nave sequestrata. Stiamo parlando della SOS Humanity a Crotone e poi il Papa, diamo corpo e cuore alla speranza. Durante la giornata il messaggio per la giornata delle vocazioni. Infine, la mia missione è iniziata tra i profughi. La testimonianza dunque. Passiamo verso le 24 ore. Il giornale che si occupa di economia e diritto, ma anche di attualità, certamente. Negozi, patto contro le chiusure. Questo è il titolo principale. L'Italia spopolata da Confcommercio e dai comuni. Accordo per fermare l'abbandono. Con la desertificazione commerciale persi in dieci anni, 135 mila esercizi. A centropagina, Giappone. Svolta storica, stoppa i tassi negativi. Primo rialzo dal 2007. Oggi tocca alla Fed e ancora, sempre nel taglio centrale, piano terna. Investimenti per 10,8 miliardi sulla rete. Dividendi più 4% all'anno. E poi il BTP indicizzato batte il record europeo. Domanda a 41 miliardi. In spalla è il tradizionale panorama del sole 24 ore. Meloni, in Ucraina niente soldati. Mattarella, estinguere i fuochi di guerra. Tutto questo, le dichiarazioni in vista del vertice europeo. Passiamo al resto del Carlino, alla sua prima pagina. Urso a Stellantis. Ora servono i fatti. Dopo la nostra intervista, scrivono dal resto del Carlino, alla di Tavares, il ministro delle imprese, Urso, rilancia in programma lo sblocco degli incentivi da aprile. FIOM CGL e grillini critici dal CEO del gruppo Stellantis, parole lontane dalla realtà. Il resto del Carlino oggi propone un'intervista a Sbarra, leader della CISL, un secondo produttore, solo con garanzie. A centro pagina il dolore della mamma di Jojo, che dichiara c'è giustizia, condannato a 20 anni, il minorenne che uccise Giovanni Battista Cutolo, la madre, vinta la cultura della violenza, una rivoluzione. Appunto in foto, Daniela Di Maggio, madre di Jojo, ucciso a 24 anni, in una piazza di Napoli, dopo un diverbio per un motorino. In spalla poi Meloni in Senato, voto farsa, non tracchiamo con la Russia, passa la risoluzione, Salvini assente. Si parla anche della politica lucana, in Basilicata, la dinastia dei Pittella e le regionali, i fratelli di azione divisi alla meta. Nel taglio basso, poi, sentenza pilota a Milano, Amazon vince la causa civile contro le false recensioni, battuto il sito realreviews.it, il mercato dei giudizi online. E poi, morto Gio Barone, il calcio in lutto, il direttore generale della Fiorentina, colpito da infarto. E tiene banco ancora il caso dei reali in Gran Bretagna, non è Kate, riparte il tam-tam, caos a corte, dubbi su un'altra foto. Passiamo all'eco di Bergamo, tariffe per visite ed esami, si cambia, effetti incerti. Da aprile, rimborsi ridotti alle aziende sanitarie, liste d'attesa anche di 18 mesi. Cambiano a partire dal primo aprile le tariffe che lo Stato corrisponde alle aziende sanitarie, anche private accreditate, che erogano prestazioni ai cittadini in regime di servizio sanitario nazionale. E l'effetto dei nuovi livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, in Lombardia queste tariffe si ridurranno in media di circa l'8%, perché la Regione ha messo a punto un tabellario meno penalizzante rispetto alle indicazioni nazionali che arrivano invece al 30%. A centropagina la foto, la nuova strada devasterà un territorio, stiamo parlando della Bergamo-Treviglio, per far risparmiare 10 minuti di strada si devasta un territorio. Per me non ne vale la pena. Fabio Proverbio è presidente della cooperativa di Castelcerreto che coltiva e gestisce alcuni dei terreni attorno alla cascina perizza di proprietà degli istituti educativi di Bergamo. Siamo nella campagna a nord di Treviglio, tra le frazioni Geromina e Castelcerreto, e a poche decine di metri da qui dovrebbe passare il tracciato della nuova autostrada Treviglio-Bergamo. Ma gli agricoltori non sono d'accordo. Andiamo a sud, lo facciamo intanto con la Gazzetta del Mezzogiorno, riflettori su Bari, inchiesta mafia, piante e dosi, ministro dell'interno nomina la commissione, rischio scioglimento, De Caro dichiara, è un atto di guerra. E poi a centropagina il reportage dalla Statale Cento dove la morte corre sul doppio senso di marcia, treni bloccati, Emiliano chiama Meloni, dunque il focus sui trasporti, e nel taglio basso Palazzi Chiostri, Masserie, la primavera pugliese del FAI, il 22-23 marzo visitabili, 44 aperture in 33 città, il figlio di Eastwood in Puglia per le riprese di Stolengord, sei settimane di ciac fra Bari, Taranto e Basso Salento. E poi la cronaca dalle province, Exilva sospeso il presidio, oggi una nuova assemblea, G7 quei ritardi nell'esecuzione dei progetti in Valle d'Itria e si schianta contro il guardrail, muore un andriese, un sessantenne andriese, sulla SP-231. In spalla poi, nel caso del ventenne leccese, è trovato morto in Olanda, il corpo nei pressi di Amsterdam, la polizia non esclude nessuna pista. Anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno si parla di virus, le zanzare come tigri e allarme, nuovi virus appunto, e la docente dell'Uniba Chironna dichiara già i primi casi preoccupati per i danni neurologici. Rimaniamo a sud, lo facciamo con l'edicola del sud, Bari non è mafiosa, De Caro è un atto di guerra, il Ministero controlli necessari, il Viminale avvia l'iter per lo scioglimento del comune dopo l'inchiesta sui presunti legami tra clan e politica. E a centropagina, a crociere, verso una stagione da record, a costi su del 12%, attesi oltre 450 mila passeggeri. Si tratta evidentemente di un boom senza precedenti. Andiamo a Roma, lo facciamo con il messaggero, BCE a fondo sul Green Deal, rallenta la produttività, lo studio di Francoforte sulle criticità delle nuove politiche ambientali. Il rendimento delle imprese può calare di un terzo in cinque anni, l'Unione Europea ora frena. A centropagina, il dramma di Arina, il compagno si suicida, si è gettato dalla loro stanza, la forza di Sabalenka, gioco a Miami. E ancora la cronaca, morta col fidanzato, l'Iran la definisce peccatrice e respinge la salma. I due giovani asfissiati a Napoli mentre erano appartati in auto, Teheran si oppone al rimpatrio. Leggiamo, morta asfissiata in auto, l'Iran non vuole la salma, era una peccatrice. La ragazza è morta nella notte tra venerdì e sabato scorso insieme al fidanzato di 24 anni dopo aver esalato i gas di scarico dell'auto in cui si erano appartati all'interno di un box a secondigliano. I familiari della ragazza non riescono ancora a ottenere il trasferimento della salma in patria a causa dello stop imposto dalla polizia morale iraniana. Andiamo avanti con la prima pagina del mattino vent'anni al killer di Jojo musicista ucciso in piazza municipio i giudici fu un omicidio volontario e senza alcuna ragione la mamma porterò la legalità nelle scuole basta impunità poi faccia a faccia con il baby assassino. E a centropagina ieri nel giorno della memoria di Don Diana che cammina con i giovani dichiara Colosimo presidente della commissione antimafia che ha partecipato a Casal di Principe alla Marcia in ricordo appunto di Don Peppe Diana ucciso dalla camorra 30 anni fa. E c'è anche la dichiarazione del Papa ha operato profeticamente calandosi nel deserto esistenziale di un popolo e anche Mattarella per Mattarella per il presidente della Repubblica è un patrimonio del paese in foto a centropagina vediamo proprio un momento del corteo al passaggio sotto la casa di Don Peppe anche sul mattino la politica Meloni noi con Kiev ma bisogna evitare l'intervento diretto la premier rischio escalation non alle truppe Salvini sintonia con Giorgia ma evita l'aula chiudiamo la rassegna stampa con il quotidiano del Sud la difesa comune cambia l'Europa questo è il titolo principale l'avviso di Gentiloni spezzare il circuito dei sovranismi e costruire la vera federazione europea poi Meloni attacca Putin mai un tavolo con lui escluso un intervento diretto dell'Italia nella guerra e questo l'ultimo titolo della rassegna stampa di oggi a me non resta altro che augurarvi buona giornata e buon proseguimento con i programmi della rete Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti